Ingegnere, a me sembra veramente strano che certo dopo 45 ore, apertura straordinaria, quasi senza interruzione di fatto, in questo weekend per quanto riguarda il Mose, che poi questa squadra se ne fosse andata, va bene, è un errore anche questo, l'abbiamo imparato. Non è che è stata andata, a fronte di previsioni è stato deciso che nella valutazione del rischio fra il costo di mantenere una squadra e evitare il danno probabile di un allagamento, è stato ritenuto che era più costoso mantenere la squadra, perché lei fa così quando decide, prende da un lato il beneficio della spesa che è mantenere la squadra e dall'altro vede quanto vale il rischio. Ma quanto vale il rischio? Si sono pesate le due cose. Per la probabilità, è qui che entra il gioco della previsione. Quale poteva essere la probabilità precisa con la sua incertezza? Però aspetta ingegnere, ho una domanda importante, cioè che tempo ci vuole per attivarli? Per attivarli bastano due ore se sono a casa loro, ma se c'è già la squadra lì basta un'ora la squadra.